Previero Forti, Caritas Italiana, ancora un corridoio umanitario che si attiva dalla Libia, come avete fatto? Chi paga tutte queste spese? Il corridoio umanitario dalla Libia è un'iniziativa congiunta tra Chiesa Italiana, Governo Italiano e Nazioni Unite. Già alla fine di dicembre, poco prima di Natale, abbiamo messo in moto una macchina complessa che ha portato l'Italia ai primi 150 profughi detenuti purtroppo nelle carceri libiche, sono migranti costretti a vivere condizioni incredibili che molti di noi hanno già visto attraverso servizi tra stampa, dossier, allora ci siamo attivati per farli arrivare in sicurezza all'Italia. Questo è accaduto nuovamente, sono arrivate altre 150 persone, tutte molto giovani, alcuni bambini che hanno finalmente potuto trovare un'accoglienza dignitosa nel nostro paese. Le persone accompagnate con i corridoi umanitari, che in sostanza sono traete anche ai trafficanti di esseri umani, avevano per prospettiva quella di attraversare il Mediterraneo con queste barche, barchette, barchini, gommoni, il Mediterraneo, invece si ritrovano di fronte alla scaletta di un aereo, cambia completamente la prospettiva. Molti di loro ci hanno confessato che da lì a qualche mese avrebbero preso la via terrestre verso la Libia per raggiungere l'Italia con i barconi e sapere invece di poter arrivare ad un aeroporto, come facciamo tutti noi viaggiatori, in sicurezza, imbarcarsi su un aereo, per loro è un'esperienza enorme, per molti è l'esperienza della vita e quindi la vivono con un carico di emozioni che trasmettono poi anche agli operatori che li accompagnano perché vediamo quel bel disorientamento di chi sa che da lì a poco veramente la sua vita avrà una svolta, dopo magari dieci anni vissuto in un campo profumo. Grazie